Com'è nato questo libro che non doveva essere un libro? E' nato che andando in pensione vengono strani pensieri, uno pensa che magari rimangono pochi anni ancora da vivere oppure che la memoria si perde, e si perde effettivamente, e allora il desiderio di annotare, di scrivere. Poi diversi amici con i quali ho condiviso la mia scrittura mi dicevano ma a me sta facendo tanto bene questo libro, è un peccato non pubblicarlo. Con molti dubbi fino alla fine però mi hanno convinto, e devo dire che anche a me, io mi accorgevo che anche a me faceva bene, mi accorgevo che scrivendo rivivevo molte di quelle emozioni, appunto sorridere o anche commuoversi, e che comunque poteva aiutare anche una comprensione più completa, non dico migliore o la vera comprensione, ma una comprensione più completa di Papa Francesco. Paradossalmente la dimensione meno nota di Papa Francesco è proprio il vergoglio della fede, diciamo la sua fede, la sua umanità, ma come la sua fede tocca la sua umanità. E si va molto più facilmente invece sull'aspetto della predicazione sociale e politica di Francesco, che è solo la conseguenza della sua fede. Ecco, mi sembra che forse questo libro può aiutare a conoscere proprio l'intima essenza di questo pontificato, di quest'uomo, di questo prete, ecco, perché io l'ho conosciuto soprattutto come un sacerdote.